Clitoride contro gli Sgobbi, 1-1, 2-2 il punteggio, siamo nel secondo tempo, calcio di Clitoride come preferisci. Attenzione a Brandi, il tiro e il gol, autogol di Palmieri. Il gol, era una direzione che non incideva. Vediamo il gol, Napolitano si aveva posizionato purtroppo male, entriamo quindi diretta con il vantaggio dei Clitoride. Prodomo sicuramente ci sarebbe arrivato, attenzione però a Peppe che sta guidando sicuramente, già ci ha provato prima, ha trovato una grande risposta a parte il portiere della squadra di Chiamunno. Ancora Peppe! Valla alle stelle, sicuramente non è Novellino, sicuramente è Marco Novellino.